C'è chi è arrivato a dire che ha inventato un genere musicale, sicuramente si è fatta notare per la propria originalità e anche la sua bravura, il suo talento. Parliamo di Madame, oggi a Puggini On Air e il suo nuovo singolo che porterà al Festival di Sanremo 2023, Il Bene nel Male. Abbiamo seguito in diretta la finale di Sanremo Giovani per raccontarvi cosa succedeva e i big hanno detto il titolo, finalmente lo hanno rivelato, del singolo che porteranno a Sanremo. E noi in questi approfondimenti approfondiamo l'argomento, in particolare oggi parliamo di Madame, Madame che è un grande ritorno al Festival, perché è stata l'artista femminile rivelazione della musica italiana del nuovo decennio, con diversi singoli anche di successo pubblicati con Sugar Music. È stato proprio il primo Festival di Amadeus del 2020, che tutti ricordiamo a consacrare la giovane artista che con la canzone Voce si è classificata all'ottavo posto, conquistando un totale di quattro dischi di platino per il singolo e tre dischi di platino con l'album di debutto dal titolo Madame. Madame, quindi omonimo. Sono passati ormai quindi quasi tre anni, da quel momento la carriera di Madame è andata alle stelle, 25 dischi di platino, 8 dischi d'oro, collaborazioni con tutti gli artisti più noti della scena italiana, da Sfera e Basta, ricordiamo Marrakesh. Il debutto come autrice anche per Laura Pausini con il singolo Scatola. Bene, a distanza ormai quindi di tre anni dal disco di debutto, per Madame è giunta l'ora di pubblicare probabilmente un nuovo disco, e vedremo quindi insieme i dettagli nei prossimi approfondimenti su Sanremo 2023 e su Madame, che è una grande artista che seguiamo sempre. Il brano che porterà al festival, che ricordiamo si intitola Il bene nel male, è composto da Bias, Braille e Madame. Ecco, quindi siamo in attesa del testo, anche quello sarà un momento molto interessante quando TV Sorrisi e Canzoni ci farà leggere in anteprima i testi delle canzoni e noi ci rivediamo, ci riascoltiamo presto qui a Puggini Oner. Vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio tutti i nuovi iscritti e siete tantissimi. Un abbraccio grande a tutti, vi auguro una buona serata.